Arezzo rischia di perdere il treno, non c'è dubbio che dopo l'incontro a Roma tra il ministro Selvini e il presidente dell'Umbria, Tesei, la situazione si sia complicata. L'Umbria guarda con occhio favorevole alla soluzione di Creti che non entusiasma il sindaco di Arezzo. Sulla questione c'è stato anche nei giorni scorsi un webinar alla Camera di Commercio di Arezzo e Siena dove è stato fatto il punto sulle infrastrutture nella nostra zona. Ghinelli sposa nettamente la soluzione di Rigutino. Ho fatto anche per venire indirettamente un messaggio a Matteo Salvini in quanto ministro rappresentandogli in tre parole qual è la situazione. Ci sono interessi apparentemente contrastanti sulla localizzazione di questa stazione. Interessi, devo dire, di piccola bottega, francamente fatemelo dire, non ha molto senso per come sono state poste le soluzioni alternative alla Manziana, cioè a Rigutino. Per cui io ritengo e penso e spero che il ministro vorrà seguire questo suggerimento, però per l'amor di Dio un sindaco dà suggerimento a un ministro. È un modo per confrontarsi che sia un soggetto terzo che non ha interessi territoriali alcuni a prendere una decisione in termini tecnico-economici. In una materia del gruppo delle discipline di ingegneria civile che si chiama tecnica ed economia dei trasporti si fanno analisi costi-benefici. E un paese come il nostro non può esimersi da fare analisi costi-benefici. Quindi mettere l'infrastruttura nel luogo in cui avrà il maggior successo da un punto di vista economico, quindi del bacino di utenza servito. Solo così si riuscirà a posizionarla nel posto giusto per tutti. Poi che uno sia un po' più contento, un po' meno contento, poco importa. Ma bisogna star dietro a quella che è l'economia del sistema di trasporto pubblico ferrovia a alta velocità. Grazie.